Il diavolo Il contadino rimaneva in piedi di fronte al medico, davanti al letto della moribonda. Calma, rassegnata, lucida, la vecchia guardava i due uomini e li ascoltava parlare. Stava per morire e non si ribellava. Aveva finito il suo tempo. Era ormai novantaduenne. Il sole di luglio entrava a fiotti dalla finestra e dalla porta aperta, gettando la sua fiamma calda sul pavimento di mattoni scuri, disegnato e battuto dagli zoccoli di quattro generazioni di contadini. Entravano anche gli odori dei campi, spinti dal venticello ardente, odore d'erba, di spighe, di foglie arse dal calore meridiano. Le cavallette si sgolavano, riempivano la campagna ad un crepitio chiaro, simile al cri-cri dei grilli canterini, che si vendono ai bimbi nelle fiere. Il medico diceva, alzando la voce, «Onore, non potete lasciare sola vostra madre nello stato in cui si trova. Può morire da un momento all'altro». E il contadino desolato ripeteva, «Bisogna pure che porti dentro il grano. È ammassato a terra da troppo tempo. Il momento è buono. Che ne dici, mamma?» La vecchia moribonda, schiava dell'avarizia normanna, fece di sì con l'occhio e la fronte, esortando il figlio a ritirare il grano dal campo e a lasciarla morire da sola. Ma il medico si stizzì e battendo il piede, «Siete un ignorante, mi capite? E non vi permetterò di far questo, mi capite? E se siete obbligato a ritirare il vostro grano proprio oggi, andate a cercare la rapè per bacco». E fatele sorvegliare vostra madre. Lo esigo, mi capite? E se non m'obbedite, vi lascerò crepare come un cane quando sarete malato. Mi capite? Il contadino, un uomo alto e magro, dai gesti lenti, torturato dall'indecisione, dalla paura del medico e dall'avidità del risparmio, esitava, calcolava, balbettava. «Quanto prende la rapè per venir qui?» Il medico gridava, «E che ne so io? Dipende dal tempo che le chiederete. Mettetevi d'accordo con lei, per bacco, ma voglio che sia qui entro un'ora, mi capite?» Il bifolgo si decise. «Ci vado, ci vado, non vi arrabbiate, signor dottore!» E il medico se ne andò brontolando. «Attenzione, attenzione! Io non scherzo quando mi arrabbio!» Appena fu solo, il contadino si voltò verso la madre e con voce rassegnata. «Vado a cercare la rapè. La vuole quell'uomo. Non ti muovere finché non sono di ritorno!» E uscì. La rapè, vecchia stiratrice, assisteva ai moribondi e ai morti del comune ed intorni. Poi, dopo aver cucito i suoi clienti nel lenzuolo da cui non sarebbero mai più usciti, ritornava al suo ferro da stiro, col quale stirava la biancheria dei vivi. Rugosa come una mela vecchia di un anno, malevola, gelosa, avara di una valizia inconcepibile, curva ad angolo retto, come fosse stata spezzata alle reni dal continuo movimento del ferro strusciato sulla biancheria, si sarebbe detto che essa avesse per le agonie una specie d'amore mostruoso e cinico. Non parlava se non di persone che aveva veduto morire, se non di tutte le specie di trapassi ai quali aveva assistito e gli raccontava con grande minuzia di dettagli sempre uguali, come un cacciatore racconta i suoi colpi di fucile. Quando, onorevo un temp, entrò in casa di lei, la trovò in tenta a preparare il turchinetto per i colletti delle contadine. — Buonasera, disse lui. — Tutto bene? — Tutto bene, mamma Rapè. — Tutto bene. — E voi? — rispose lei, volgendosi. — Io bene, ma la mamma non va. — La vostra mamma? — Sì, la mamma. — Che ha la mamma? — Ah, che... sta per chiudere gli occhi. E la vecchia tolse le mani dall'acqua e le gocce azzurre e trasparenti gocciolavano dalle dita, ricadendo nella tinozza. Con subitanea simpatia domandò «Ma è proprio in fin di vita?» Il dottore ha detto che non passerà l'alba. «Allora è proprio alla fine». Onore esitò. Gli occorreva un preambolo per la proposta da formulare, ma non trovando nulla entrò ad un colpo in argomento. «Quanto prendete per assisterla fino alla fine? Sapete che non siamo ricchi. Non possiamo nemmeno pagarci un aiuto. La povera mamma si è ridotta così per questo. Troppo lavoro, troppe fatiche. Lavorava per dieci, nonostante i suoi 92 anni. Non ne nascono più di quella fibra». La rapia replicò gravemente. «Quaranta soldi il giorno e tre franchi la notte per i ricchi. Venti soldi il giorno e quaranta la notte per gli altri. Voi mi darete venti e quaranta». Ma il contadino rifletteva. Conosceva bene la sua mamma. Sapeva quanto fosse tenace, vigorosa, resistente. Avrebbe potuto durare ancora sette giorni, nonostante il parere del medico. Disse risolutamente. «No, voglio che mi facciate un prezzo, un prezzo per... sino alla fine». Si corre il rischio da una parte e dall'altra. «Il dottore dice che se ne andrà fra poco. Ma se succede questo, tanto meglio per voi e tanto peggio per me. Ma se lei regge fino a domani o di più, è tanto meglio per me e tanto peggio per voi». La guardiana dei moribondi, sorpresa, fissava il contadino. Non aveva mai trattato un trapasso ad un tanto l'ora. Esitava, tentata dall'idea ad una probabilità favorevole. Poi sospettò da essere truffata. «Non posso dire nulla finché non avrò veduto vostra madre». «Venite a vederla». Si asciugò le mani e lo seguì. Per la strada non parlarono. Lei camminava con passo svelto, mentre lui allungava le gambe lunghe come se ad ogni passo dovesse attraversare un ruscello. Le vacche accosciate nei campi, oppresse dal caldo, alzavano pesantemente il capo, mandando un debole mugito verso quei due viandanti per chieder loro un po' d'erba fresca. «Come fu vicino a casa?» Onore Bontem mormorò. «Se fosse finita, è lo stesso?» E il suo desiderio incosciente si tradiva dal suono della voce. Ma la vecchia non era morta. Giacceva nel lettuccio, supina, le mani posate sulla coperta di indiana viola, mani spaventosamente magre, nodose, simili a strane bestie, a granchi, rattrappite dai reumatismi, dalle fatiche, dai lavori quasi secolari compiuti. L'erape si avvicinò al letto e considerò la moribonda. Le tastò il polso, le palpò il petto, le ascoltò il respiro, le rivolse qualche parole per sentirne la voce. Poi, avendola ancora guardata a lungo, uscì, seguita da un re. La sua convinzione era questa. La vecchia non sarebbe arrivata alla notte. Lui domandò, è bene? Ebbene, durerà due giorni, forse tre. Mi darete sei franchi, tutto compreso. Sei franchi, sei franchi, si mise a gridare il contadino, avete perduto la testa? Vi dico che ne ha per cinque o sei ore, non più. E discussero lungamente, accalorandosi tutti e due. Poiché la guardiana stava per andarsene e il tempo passava e il grano da solo non si sarebbe raccolto, alla fine onorei consentì. Sia così, sei franchi, tutto compreso, anche la lavatura del corpo. D'accordo, sei franchi. E si allontanò a lunghi passi verso il grano disteso al suolo sotto il peso del sole che matura le messi. La guardiana rientrò nella casa, si era portata dietro un lavoretto e di fatti era abituata a darsi da fare in continuazione, alle volte per se medesima, alle volte per conto della famiglia che le affidava questo duplice incarico, sborsando un compenso supplementare. D'un tratto domandò, vi hanno almeno somministrato i sacramenti, mamma a buon temp? La contadina fece di no col capo e la rapè che era devota si alzò prontamente. Mio Dio, è mai possibile? Vado subito a chiamare il signor curato e si precipitò verso il presbiterio con tale rapidità che i ragazzi sulla piazza, vedendola trottare così velocemente, pensarono a qualche disgrazia. Il prete in cotta arrivò subito, preceduto dal chiarico che suonava il campanello per annunciare il passaggio di Dio nella campagna ardente e calma. I contadini al lavoro si levavano il cappello e rimanevano immobili in attesa che la bianca veste del prete fosse scomparsa dietro qualche cosa. Le donne, intente a raccogliere i covoni, si raddrizzavano per farsi il segno della croce. Le galline nere, spaventate, fuggivano lungo i fossati bilanciandosi sulle zampe fino a raggiungere il buco a loro ben noto in cui bruscamente sparivano. Un puledro alla fune in un campo s'adombrò alla vista della cotta bianca e si mise a girare in tondo all'estremità della corda lanciando nitriti. Il chiarico in sottana rossa andava svelto e il prete il capo inclinato su una spalla ricoperto con la berretta quadrata lo seguiva mormorando preghiere. La rapè veniva dietro a loro tutta curva in avanti piegata in due quasi in atto di prosternarsi camminando le mani giunte come in chiesa. Onore da lontano li vide passare domandò dove va il curato porta il buon dio a tua madre per bacco rispose il suo garzone più svelto di lui il contadino non si stupì può darsi e si misero al lavoro mamma si confessò ebbe l'assoluzione si comunicò e il prete fece ritorno in chiesa lasciando sole le due donne nella casupola soffocante allora la rapè cominciò a considerare con attenzione la moribonda domandandosi se sarebbe durata a lungo il giorno calava l'aria un po' fresca entrava a sbuffi più vivi facendo volteggiare contro la parete un'immagine fermata con due spilli le piccole tende alla finestra già bianche ora giallastre coperte di punteggiature di mosche pareva volessero andarsene via svincolandosi come l'anima della vecchia immobile gli occhi aperti mamma bon temp sembrava aspettare con indifferenza la morte così vicina ma ancora indugiante il respiro corto si bilava un poco nella gola stretta tra un momento sarebbe spirata e sulla terra ci sarebbe stata una donna di meno che nessuno avrebbe rimpianto onore rincasò che annotava avvicinandosi al letto vide che sua madre viveva ancora e come sempre faceva quando lei era indisposta domandò come va poi concedò la rappera comandandole domani alle cinque ci conto lei rispose domani alle cinque arrivò infatti allo spuntare del sole onore stava mangiando la zuppa che si era preparato da solo prima di andare nei campi l'infermiera domandò beh è spirata lui dispose con una piega maliziosa all'angolo delle labbra sta piuttosto meglio e se ne andò colta da inquietudine la rapese avvicinò all'agonizzante che era sempre nello stesso stato oppressa impassibile agli occhi aperti le mani contratte sulle coltri la guardiana comprese che la cosa poteva durare così due giorni quattro giorni otto giorni e il suo cuore davara ebbe una stretta mentre una collera furiosa la sollevava contro quello scaltro che l'aveva abbindolata e contro quella donna che non moriva mai cominciò a lavorare tuttavia e attese con lo sguardo fisso sulla faccia rugosa di mamma buon tempo onore rincasò per la colazione sembrava contento quasi beffardo poi andò via decisamente immagazzinava il suo grano in circostanze favorevolissime la rapese esasperava ora ogni minuto trascorso le sembrava rubato denaro rubato aveva voglia una voglia pazza di prendere per il collo quella vecchia somara quella vecchia testarda quella vecchia ostinata e di troncare stringendo un poco quel piccolo soffio rapido che le rubava tempo e denaro poi riflette al pericolo e poiché altre idee le passavano per la testa si riavvicinò al letto domandò avete già visto il diavolo mamma buon tempo murmurò no allora la guardiana si mise a parlare a raccontare certe storie per terrorizzare la sua debole anima di morimonda qualche momento prima del trapasso diceva il diavolo appariva a tutti gli agonizzanti aveva una scopa in mano una marmitta in testa e gettava grandi grida quando lo si era veduto era finita si poteva vivere solo pochi istanti ancora e nominava tutti quelli ai quali il diavolo lei presente era apparso quell'anno joseph joseph loazel eulalie ratier sophie padagnu seraphine grospeed mamma buon tempo turbata si agitava muove fa le mani cercava di voltare la testa per guardare in fondo alla stanza improvviso la lepe scomparve prese nell'armadio un lenzuolo e vi si drappeggiò si mise in capo la marmitta i cui tra piedi corti e ricurvi si ergevano come corna afferrò con la destra una scopa e con la sinistra un secchio di zinco che lanciò vivamente in aria perché ricadesse con fracasso infatti urtando il suolo il secchio fece un rumore spaventoso allora salita su una sedia l'infermiera sollevò la cortina che pendeva alla fine del letto e apparve gesticolando e lanciando acute grida dal fondo del vaso di ferro che le nascondeva il viso minacciando con la scopa come un diavolo da burattinai la vecchia contadina in fin di vita scomenta la moribonda fece uno sforzo sovrumano per sollevarsi e fuggire poteva anche metter fuori dalle coltri le spalle e il petto poi ricade con un gran sospiro era morta tranquillamente la rapè rimise a posto tutti gli oggetti la scopa nell'angolo dell'armadio il lenzuolo dentro la marmita sul focolare il secchio sopra la panca e la sedia contro la parete poi con gesti professionali chiuse gli enormi occhi della defunta pose sul letto un piatto vi verso l'acqua dell'acqua santiera vi immerse il ramuscello di bosso appeso a un chiodo sul cassettone e in ginocchiatasi cominciò a recitare con fervore le preci dei morti che sapeva a memoria per consuetudine di mestiere quando onore a sera inoltrata rincasò la trovò in preghiera e subito calcolò che guadagnava ancora un franco in rapporto a lui perché non aveva vegliato che tre giorni e una notte ciò che in tutto faceva cinque franchi invece dei sei che le erano dovuti a